È un russo di 34 anni, il presunto autore di tre aggressioni per rapina che nell'ultimo mese aveva spaventato i cittadini di Argenta. Si chiama Igor Vaklavich. Già finito in carcere nel 2007 per delle rapine effettuate, questa volta con una balestra, è stato fermato venerdì mattina dai carabinieri di Argenta in un casolare disabitato in via Portonia a Boccaleone, al confine con il comune di Portomaggiore. Qui sono state ritrovate anche le armi che usava durante le aggressioni. Dormiva di giorno e agiva tra le 19 e le 20 di sera, indossando un casco da motociclista. La prima vittima è stato il sindaco di Argenta Antonio Fiorentini, che mentre rincasava la sera del 21 ottobre è stato rapinato dal ladro che impugnava un coltello e un'accetta. Scattate subito le operazioni di ricerca da parte dei carabinieri, il rapinatore ha agito di nuovo in via Cantalupo il 26 ottobre ai danni di una donna. Qui però qualcosa deve essere andato storto per l'uomo che è stato messo in fuga da una pronta reazione della vittima. Terza e ultima aggressione lo scorso 4 novembre in una abitazione sulla strada Vanzume di Argenta. La vittima, questa volta un uomo, mentre stava parcheggiando la macchina in garage, è stato aggredito con le solite modalità del rapinatore con l'accetta. I controlli dei carabinieri intanto si stringevano e venerdì, alle 9 di mattina, i militari hanno fatto irruzione in un casolare abbandonato mentre Vaklavic dormiva. Qui il 34enne è stato fermato e indiziato per rapine aggravate e lesioni personali. Nella casa sono stati ritrovati, oltre agli oggetti che usava per le rapine, anche una bicicletta rubata e i magri bottini dei furti. E' attesa per lunedì la convalida dell'arresto.